Questo video è per aiutare gli uomini che potrebbero voler diventare fratelli del passaporto ma pensano che potrebbero non essere in grado di permetterselo. Tutti parlano di quanto sia bello vivere in Brasile, delle belle donne, delle spiagge meravigliose e di quanto costa vivere in una grande città, come Rio de Janeiro o San Paolo. Molti guarderanno i video di YouTube e diranno che non possono permettersi di vivere in Brasile. Costa meno vivere in Brasile che nelle Filippine, e con uno standard di vita più elevato. Inoltre, il Brasile offre assistenza sanitaria gratuita a tutti, inclusi visitatori, turisti, tutti. Alcune persone sono riuscite a trovare un alloggio in Thailandia per un minimo di 10 dollari statunitensi a notte o un minimo di 100 dollari statunitensi al mese. Il punto è, fai la tua ricerca. Le cose potrebbero non costare quanto credi o pensi. I collegamenti al video e al canale YouTube che menzionerò in questo video sono nella descrizione. Quest'uomo ha viaggiato per il mondo per oltre 13 anni e negli ultimi 4 anni ha viaggiato per il mondo con la sua ragazza malese. Hanno viaggiato in tutto il Messico, l'America Centrale, il Sud America e il Sud Est Asiatico. Tuttavia, possono permetterselo perché non rimangono nelle grandi città. Il suo canale YouTube fornisce informazioni su come viaggiare per il mondo a buon mercato. Il suo budget è compreso tra 1000 e 2000 dollari statunitensi al mese, che include vitto, alloggio, trasporto e il costo di due biglietti aerei. Fa i suoi soldi da internet. Le seguenti clip provengono da uno dei suoi video riguardanti il trasferimento in Brasile e la vita in una delle periferie di una grande città. Pertanto, questo video parla di quanto costa vivere in un sobborgo appena fuori da una grande città del Brasile. Tuttavia, prima di approfondire quanto costa vivere in Brasile, parliamo prima di quanto costa volare in Brasile dagli Stati Uniti. Questo è il sito web di Google Voli. Vengo da Chicago e vado a Rio de Janeiro, e voglio un biglietto di andata e ritorno. Come puoi vedere, è costato circa 800 dollari statunitensi. Tuttavia, costa solo 500 dollari statunitensi per un biglietto di andata e ritorno per Roma Italia e 400 dollari statunitensi per Cartagena Colombia. Il punto è che le cose potrebbero non costare quanto pensi o credi. Conosco persone che hanno ottenuto un biglietto aereo di andata e ritorno per la Tailandia o le Filippine per circa 800 dollari statunitensi. E dove la persona seduta accanto a lui sullo stesso aereo ha pagato più di 1600 dollari statunitensi. Dipende però dal periodo dell'anno in cui voli, se vai in un fine settimana rispetto a un giorno feriale e con quanto anticipo hai acquistato il biglietto aereo. L'uomo dice che il suo budget è di 500 dollari statunitensi. Tuttavia, sta pagando l'affitto per il suo appartamento con due camere da letto e l'affitto per una casa con due camere da letto. Quando prendi l'affitto che sta pagando per la casa con due camere da letto, allora il suo budget scende a 420 dollari statunitensi. Penso che pagare 80 dollari americani al mese per una casa sia un buon prezzo. Quindi sei in Brasile giusto? Sì. Sì, mi trovo nello stato di Bahia Brasile, nel nord-est del Brasile, in una piccola città a circa tre ore della capitale dello stato, Salvador. Qui in Brasile o vivi in una grande città, come una grande capitale. Ogni stato ha una capitale. O. Rio o vivi in quello che viene chiamato l'interno, l'interno. Qui il mio affitto. Inizierò con quello. Vivo in un bellissimo condominio nuovo di Zeca, due camere da letto, due bagni di marca. Nuovo. Un piccolo giardino giardino privato. C'è un'enorme piscina. Una palestra e un complesso condominiale. Per tutto questo pago 170 dollari al mese. Sai qui ho una palestra e una bellissima piscina. C'è una specie di area barbecue e bar. E come ho detto, il mio affitto è di 170 dollari al mese. Tutto da solo. Tutto per me. Elettricità. Pago circa 40 dollari al mese. Giusto, è un po' alto. Mio. Mio cognato mi rimprovera sempre per avere una bolletta elettrica così alta. La bolletta dell'acqua arriva a 20 dollari al mese. Internet. Buona connessione internet forte e illimitata. 14 dollari al mese. Cellulare. Ottimo servizio di telefonia cellulare. Illimitato. 10 dollari al mese. Cibo. Ho un budget di 120 dollari al mese. Sono vegetariano. Il Brasile è la terra dei frutti tropicali e delle meravigliose verdure fresche. Quindi non lo farai mai. Puoi mangiare molto bene, molto a buon mercato e molto sano qui in Brasile per pochi soldi. 46 dollari è quanto prevedo per i miei farmaci. Circa tre anni e mezzo fa a San Francisco ho avuto un ictus, gran parte del mio SOC. Sto bene ora. Nessun problema ma devo prendere quattro farmaci al giorno, ne conosci uno. Solo uno dei farmaci da solo. Ero un po' preoccupato per questo, perché ovviamente non posso ottenere. L'assistenza sanitaria degli Stati Uniti non funziona qui. Uno dei farmaci. Solo uno di quei farmaci magici da solo. Se devi pagare per questo, solo un farmaco negli Stati Uniti costerebbe più di 300 dollari. Quattro dei miei farmaci, tutti e quattro insieme, qui in Brasile mi sono costati solo 46-46 dollari al mese. Non hai bisogno di una prescrizione. Proprio come in Messico. Molti posti nei paesi dell'America Latina. Vai in farmacia e mostra loro quello che vuoi. Perché non sia un farmaco psicotropo. Puoi ottenere tutto ciò di cui hai bisogno e desideri a un prezzo molto basso. Come ho detto, non avevo bisogno di una ricetta. Mio cognato mi ha appena portato in farmacia. Ho appena mostrato loro la mia ricetta americana. Ho mostrato loro, sai, la bottiglia direttamente da Walgreens. L'hanno guardato e mi hanno procurato l'equivalente brasiliano, che qui sono generici. Lascia che ti parli del sistema sanitario. Qui sono andato dal medico due volte nei sei mesi. Ho una grave disidratazione. Non stavo bevendo abbastanza liquidi e fa caldo. Pensavo di avere un altro ictus. Sembrava un ictus. Sono andato all'ospedale pubblico. Ho ottenuto. Mi presero subito senza batter ciglio e non mi chiesero altro che il mio nome. Mi hanno fatto una flebo, un'iniezione endovenosa, mi hanno fatto un'attacca ed è stato tutto completamente gratuito. La Costituzione brasiliana garantisce l'accesso gratuito all'assistenza sanitaria a tutti anche se sei un turista. Anche se sei straniero. Anche se hai un visto di soggiorno come me. È stupefacente. È favoloso? No. Non so se vorrei sottopormi a un'operazione al cervello qui. A volte devi aspettare molto tempo nella sala d'ottesa. Può essere un po' frenetico. Soprattutto se stai ricevendo assistenza nella grande città. Destra. Ma è lì. È lì se ne hai bisogno e, come ho detto, la mia esperienza è stata fantastica. Un'altra volta ho avuto solo una piccola cosa. Avevo bisogno di un dermatologo e sono andato da un medico privato, e questo è costato 20 dollari. Ok, mi è stata rimossa una piccola cosa dalla faccia. Quindi trovo l'assistenza sanitaria estremamente accessibile. Mia nipote diciottenne si è appena trasferita in una casa qui in Brasile e le pago l'affitto. Il suo affitto è di 80 dollari al mese da una casa con due camere da letto, un bagno e un cortile. Ecco quanto sono economici gli affitti qui. Il che porta le mie spese mensili totali a 500 dollari statunitensi al mese. Ho soggiornato in Airbnb in tutto il mondo per soli 11 dollari a notte. Airbnb è un'ottima cosa. Grazie per aver guardato. Fai clic sul pulsante mi piace, iscriviti, lascia un commento e condividi questo video.